Benvenuti nella Galassia Rattics. Sei pronto a vivere grandi avventure su una moto versatile e potente? Questa Yamaha Tracer 900 è ciò che fa per te. Questa moto usata, ma in ottime condizioni, è equipaggiata con un motore tre cilindri da 847 cm3, che offre prestazioni entusiasmanti su ogni tipo di strada. Immatricolata a maggio 2020, ha percorso poco più di 35.000 km certificati. Questa Tracer 900 è perfetta per chi cerca il mix ideale, tra sportività e comfort. Adatta sia ai lunghi viaggi che agli spostamenti quotidiani. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Visita Motorattics.it per tutti i dettagli.